Qualcuno ci vuole male, ci vuole eliminare, con il telegiornale, la multinazionale, con sogni artificiali, su scala industriale. La gente mi vuole male, con me non è gentile, mi prende sempre in giro e a me mi viene il panico, moltissimi mi dicono che mi distingo da un urinale, perché non ho il manico. La gente ci vuole male, è sempre più cattiva, conosco un uomo ricco, che non dà mai aiuto, anzi ti fai dispetti, una volta portato un cieco a vedere un film muto. Qualcuno ci vuole male, ci vuole eliminare, con il telegiornale, la multinazionale, con sogni artificiali, su scala industriale. Qualcuno ci vuole male, ci vuole eliminare, con il telegiornale, la multinazionale, con sogni artificiali, su scala industriale. Fai conto il dentifricio, c'ha dentro una sostanza, che sta anche nel detersivo, che si usa in abbondanza, dentro le lavatrici, così tu ti lavi i denti, e ti si mette in modo l'avanza. Qualcuno ci vuole male, ci vuole eliminare, con forza criminale, con l'aria ormai letale, col cacere speciale, col fungo nucleare. La gente mi vuole male, perché?